Partiamo con Discacciati, va, dai, non so cosa aspettarmi, ho visto che è stato linkato più volte, non so cosa aspettarmi, personalmente non ho alcun rapporto con Discacciati, possiamo scambiare un po' di mail, forse mi ha contattato un paio di volte, però non ho alcun rapporto, non conosco. Come diventare milionari entro il 2050 con 300 euro al mese. Interessante. Finta di avere una macchina del tempo che potesse portarci indietro al lontano 1980, quando le azioni Apple valevano 250 milioni di dollari. Se in quella data... Come le azioni Apple valevano 250 milioni di dollari? Il market cap della Apple? Il market cap della Apple era 250 milioni di dollari, non penso che le azioni... Ok, penso sia la Apple valeva 250 milioni di dollari, ok. Aveste detto a un qualsiasi analista di Wall Street che le azioni Apple sarebbero arrivate a valere 3 mila miliardi di dollari, vi avrebbe detto che... Non è che so le azioni, che so passare da 250 milioni a 3 milioni. Il market cap potrebbero anche semplicemente essere aumentate le share. Ovvio che Apple avrà fatto un bel ritorno, sì. Però poi partiamo del share peaking, allora così. Alla base one prendo un'azione che ha overperformato. Era impossibile, in quanto un valore del genere avrebbe voluto dire che l'azienda sarebbe dovuta crescere di più del 50 mila per cento. Una performance forte... Non è detto, può essere un aumento di capitale, non è detto. ... che fino ad allora non si era mai vista. Invece è esattamente quello che è successo. Mentre parlo, Apple quota sui massimi storici ed il suo valore supera i 3 trilioni di dollari. Perché nessun analista si sarebbe aspettato una performance del genere? Semplicemente perché gli analisti basano le loro stime sui dati del passato e non tengono conto dei cambiamenti... Magari qualcuno ha fatto anche value investing e ci ha investito, eh. Non so che intende gli analisti... Non partiamo benissimo, non partiamo benissimo. Fino adesso sta facendo share peaking galattico. ... che avvengono nel mondo. Se Apple è cresciuta così tanto è stato grazie all'iPhone, presentato da Steve Jobs il 9 gennaio 2007. Un prodotto che fino ad allora non esisteva. Uno strano oggetto presentato come iPod dallo schermo tattile. Telefono cellulare con internet dentro. Un prodotto che grazie alla combinazione di diverse tecnologie e alle intuizioni dei suoi creatori... Non posso dire che mi sta annoiando tantissimo. ... che ha fatto crescere le azioni di Apple come mai nessuno si sarebbe aspettato. Gli analisti non potevano... Fino dimostra nulla, non significa nulla. Significa nulla. No, ok. ... non aspettarsi un rialzo così grande. Perché al tempo stilavano le loro previsioni sulla base delle possibili future vendite del Macintosh, il computer che allora faceva concorrenza a Microsoft. Chiarito questo punto proviamo a capire come andranno le borse nei prossimi trent'anni. Spoiler, bene, molto bene. Per farlo useremo di nuovo la macchina del tempo. Torniamo ad inizio novecento. L'elettricità ha rivoluzionato la produzione industriale rendendo le fabbriche molto più efficienti e aumentandone la produttività. Inoltre ha permesso l'illuminazione notturna sia delle strade che dei luoghi di lavoro estendendo l'orario di lavoro e la sicurezza. Il telefono invece ha permesso una comunicazione più semplice e veloce riducendo i tempi di risposta e di conseguenza aumentando anche qui la produttività. Finora questo qui merita una reaction vuota in silenzio che guardo questo e dopo questo video guardo il TED Talk di Robert Gordon The End of Innovation, The End of Growth di dieci anni fa. Robert Gordon è un economista che parla del fatto di come può darsi che il nostro entusiasmo per il mercato viene non da un nuovo standard che è una crescita così alta come quella che abbiamo avuto negli ultimi centocinquant'anni ma questi centocinquant'anni potrebbero restare un momento eccezionale e non è detto che si ripeta in futuro. Quindi io stesso sono il primo che vi dice beh io investo a lungo termine perché storicamente i ritorni sono stati x per cento l'anno credo nella crescita dell'umanità ma non è detto che quello che abbiamo visto negli ultimi centocinquant'anni sia predittivo per i prossimi centocinquant'anni. Non è solo una questione di pancia Gordon mostra diversi parametri per cui ha senso pensare che possiamo aver vissuto un'anomalia molto lunga che già il trend della crescita del GDP sta diminuendo di brutto perché negli ultimi centocinquant'anni abbiamo avuto un'esplosione demografica esplosione tecnologica e può darsi che non andiamo in quella direzione può darsi che in teoria ci siamo già bruciati parecchio e molti dati mostrano che in realtà il calo c'è già stato. Quindi ora lui ci sta portando all'esempio di come l'essere umano è cresciuto esponenzialmente negli ultimi centocinquant'anni e quindi sicuramente i prossimi trenta saranno ancora crescita esponenziale megagalattica. Non darei per certezza. Non lo darei per certezza. Lo darei per può darsi faccio il tifo per questa versione ma non uso il passato in maniera così convinta per dire che ho dimostrato il futuro. Tutto questo si è trasformato in una performance per il Dow Jones del più 660% in trent'anni. Prendiamo la nostra macchina del tempo e spostiamoci al 1900... Un secondo... si è fermato al 28. Mi fai vedere poi anche... Mi fai vedere cosa è successo poi dopo il 28. In realtà un pezzo del 29 ci sta qua. Ma non è finito. Poi c'è un finale al 33 e va giù. Guarda che... Fammi vedere un attimo il Dow Jones un po' dopo. Anche 24-5 anni dopo. ...in trent'anni. Prendiamo la nostra macchina del tempo e spostiamoci al 1940. Anno in cui cominciano a nascere i personal computer. Computer che hanno permesso alle aziende di automatizzare molte operazioni aumentando così l'efficienza riducendo però i costi. Vabbè finora è il nulla. Costi. Ad esempio banche e compagnie assicurative grazie ai computer hanno potuto elaborare le transazioni e i pagamenti in modo molto più rapido e con molti meno errori. Inoltre il computer ha permesso alle aziende di gestire meglio le informazioni e di prendere delle decisioni basate su dati e analisi cosa che ha portato ad un aumento della produttività. Anche la nascita del computer ha contribuito alla nascita di nuove industrie come quella dell'informatica e della telefonia. Quindi sicuramente i prossimi trent'anni saranno a più 20% l'anno. L'industria che hanno favorito la crescita dell'economia e hanno creato tantissimi nuovi posti di lavoro. Tutto questo si è trasformato in una performance per l'indice Dow Jones del più 900% in trent'anni. Riprendiamo la macchina del tempo e andiamo al 1990. Nasce internet. Prima di internet le aziende dovevano fare affidamento per il loro marketing a dei sistemi tradizionali come telefono, fax, scelta stampata. Con l'avvento di internet le aziende hanno potuto raggiungere Vabbè ogni trentennio il mercato ha fatto un ritorno più o meno prevedibile. Lo dico da una vita lo dico lo dico da una vita se cerco Michael Butnick eroe eroe Michael Butnick su trent'anni su trent'anni l'S&P 500 Rolling 30 Years Return è stato un po' un metronomo. Trent'anni è un periodo che finora la storia negli scarsi sample che abbiamo negli unici abbiamo purtroppo un unico random walk e abbiamo sembrano tanti ma non sono tanti dati però su se vogliamo a dieci anni anche a vent'anni abbiamo avuto periodi anche negativi su trent'anni sembra veramente che sia un meccanico il ritorno azionario dell'S&P 500 gli altri indici no che darà il Nikkei 30 anni che darà il Nikkei la Rolling 30 Years sull'S&P 500 la Rolling la media mobile su trent'anni il minimo storico è stato 8% il massimo quasi 15 però abbiamo dati molto più aggregati se cerchiamo Rolling più basse da qualche parte non ce l'abbiamo qui ma non troviamo dati così 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 compatti e quindi sembra essere un ciclo che ci dà quasi garanzie di ritorni molto alti fino adesso lo storico negli ultimi 70 quando esiste la standard del Poor's 500 ma anche precedentemente ok ok su questo qui siamo siamo d'accordo però un mercato globale in modo più veloce e più conveniente internet inoltre ha permesso anche di automatizzare tantissimi processi come la gestione delle risorse e i pagamenti sempre internet ha permesso la nascita di nuove industrie come quella dell'e-commerce e del cloud che a loro volta hanno creato nuovi posti di lavoro questo si è trasformato in una crescita per l'indice Dow Jones del 1650% sempre in 30 anni quindi fatti questi esempi cosa possiamo aspettarci dai prossimi 30 anni ho una bella notizia per voi le borse probabilmente saliranno tantissimo come mai l'hanno fatto prima questo perché al momento ci sono 5 innovatori di schiacciare è sempre troppo entusiasta troppo entusiasta troppo entusiasta però possiamo aspettarci i prossimi 30 anni le borse saranno in positivo probabilmente sì probabilmente sì se no veramente stiamo messi male non è detto che però con questa enfasi degli ultimi 150 anni non è detto potremmo aver raggiunto un mini plateau potremmo aver raggiunto un momento in cui la crescita demografica non è più così alta e è meglio pure che non lo sia potremmo aver raggiunto un momento in cui diciamo l'ingresso nella forza lavoro è saturo perché negli ultimi 150 anni sono entrati nel mondo del lavoro un po' tutti non possiamo spostare la pensione più in là di così non troppo almeno possiamo aver raggiunto una abbiamo introdotto negli ultimi 150 anni rivoluzioni tecnologiche industriali può darsi che non abbiamo molto altro da introdurre nei prossimi 150 anni potremmo trovare un nuovo plateau o un po' di stagnazione o una crescita a tasso minore potrebbe esserci e poi la crescita del mercato azionario negli ultimi 150 anni è stata maggiore dell'aumento del GDP quello che è aumentato sono i multipli quindi in teoria rispetto a anche solo 60 anni fa le azioni hanno un prezzo maggiore rispetto ai loro fondamentali quindi in teoria c'è stata anche un'inflazione un gonfiamento dei multipli possiamo continuare a crescere al 900% ogni 30 anni solo espandendo i multipli boh ok se un domani una share se un domani un'azienda varrà 10 milioni di volte i propri profitti non lo so non lo so non so se questo sia possibile nel tempo interminato io sono abbastanza pessimista nel senso che sono convinto che nei prossimi 30 anni staremo il mercato azionario varrà più di oggi ma non con il tasso che abbiamo visto nei precedenti 150 anni sono un po' pessimista in questo qua fondi attivi gestiti dai AI e che ci fai? cioè non è che deve aumentare la produttività non è che se non è che se prendiamo dei fondi gestiti dai AI tutto il mercato sa deve salire per delle basi sottostanziali riassunto siccome telefono elettricità e auto ha fatto grandi ritorni blockchain robot e batterie fra le stesse ah ok secondo quindi stai anticipando che la tesi di scacciati è che internet elettricità esplosione demografica 8 per da un miliardo a 8 miliardi ingresso delle donne nella forza della forza lavoro e l'uomo andato nello spazio finora se l'hanno compensato dalla blockchain che era lavoro la blockchain a me a me ha fatto perdere il lavoro che ti devo dire telefono e auto e guardate cosa hanno combinato queste innovazioni sono la robotica le batterie e l'accumulo di energia la blockchain la multiomic sequencing tutte queste innovazioni queste tecnologie la robotica sono tipo 30 di più cioè io mi sono laureato in robotica ancora sto aspettando la blockchain vabbè sulla blockchain rido sulla blockchain rido un pochino poi le batterie elettriche la blockchain la multiomic sequencing batterie e l'accumulo di energia la blockchain robotica nah batterie e l'accumulo di energia magari un pochino c'era l'idea ipotesi Tesla Powerwall non penso che sia una rivoluzione come quella di internet la blockchain vabbè rido poco rido poco rido poco e poi il quarto che era è la sequencing la multiomic sequencing tutte queste innovazioni la multiomic sequencing cos'era la sequenza del DNA cos'era l'ultima cosa che ha detto ok il chip di Musk ok vediamo un po' queste tecnologie sono condite dall'innovazione che più ha fatto parlare di sé ultimamente l'intelligenza artificiale l'innovazione è un motore fondamentale per la crescita economica e continuerà a svolgere un ruolo fondamentale in futuro le innovazioni tecnologiche non solo portano alla creazione di nuovi settori nuove industrie ma influenzano in modo significativo anche l'andamento delle borse attraverso la creazione di nuove opportunità di investimento e la ristrutturazione di intere economie quanto possiamo aspettare non deve creare nuove opportunità di investimento deve creare nuovo valore aggiunto cioè se internet ha portato non nuove opportunità di investimento ha portato nuove cose possibili questo io sto facendo sto lavoro che non esisteva ha portato questo l'elettricità ha portato un bel po' di cose in più l'elettricità ha portato questo vediamo se l'AI porterà qualcosa chat GPT la differenza fra i numeri della serie è 240 tra 6 e 60 e 900 a differenza tra i numeri nella serie è 240 e 750 questa differenza non segue un pattern lineare o esponenziale semplice dato che l'incremento una serie con due numeri non segue un pattern lineare o esponenziale vabbè sono due numeri che serie è una serie l'incremento tra le differenze è 510 ok senza un pattern chiaro non possiamo prevedere con certezza grazie al cazzo con due numeri che vuoi fare a prevedere il prossimo il prossimo incremento sarebbe 750 più 510 cioè quindi ha proiettato oh my god fermi tutti fermi tutti ha rifatto ancora più 510 che è l'aumento tra 900 e 1.650 del Dow Jones quindi ha chiesto a CGBT di prevedere il Dow Jones e CGBT ha sommato l'ultimo incremento negli ultimi 30 anni quindi un'ipotesi potrebbe essere il prossimo numero della serie sia 2.910 aspetta non è che userà aspetta un secondo oh my god qui si stanno suicidando diversi analisti cioè i data scientists sono morti praticamente ha detto il Dow Jones in un trentennio è passato da 6.60 a 900 il trentennio dopo da 900 a 1.650 quindi aumentarlo di 7.50 il prossimo trentennio aumenterà di 1.260 che è 7.50 più 5.10 a parte che eventualmente ragiona sulle percentuali non sui delta il delta me lo sbatto poi il Dow Jones è pure un indice del cazzo è un indice che non è neanche market capo il Dow Jones è un indice che non conta niente partiamo dal presupposto Dow Jones non conta niente è un indice becero è un indice che somma le top 30 aziende ma somma il prezzo delle share se un'azienda fa share split cambia è un casino non è neanche l'S&P 500 è un indice becero nato mille anni fa e poi questo sta interpolando e quindi i 30 anni dopo aumenterà di altri 10.000 cioè almeno fallo in percentuale non il delta assoluto di aumento ma poi non serve c'ha GPT per fare sta cosa e poi c'ha GPT ha pure detto guarda che mi hai dato quattro numeri mi hai dato tre numeri 660 900 e 1650 qual è il numero successivo bu ho cercato di di cioè beh sul serio c'ha GPT ti ha detto mi hai dato tre numeri dimmi il quarto aspetta adesso non dirà mica che questa è la previsione non dirà ti prego adesso non dirà che questo ti prego vediamo ditemi che non usa ditemi che non usa questo numero per dire nulla disca ti prego non dirmi che usi sto numero 200910 come previsione per dire che bisogna investire perché la Dow Jones arriverà quel valore ti prego quanto possiamo aspettarci quindi che crescano le borse da qui ai prossimi 30 anni ho dato in pasto a chat GPT i dati dei periodi storici che abbiamo visto prima e se la sequenza numerica dovesse continuare allo stesso ritmo questo vorrebbe dire una performance del più 2910% per i mercati nei prossimi 30 anni che si traduce in un 10% per i mercati no non era neanche tra i valori del Dow Jones era tra le percentuali di incremento del Dow Jones quindi stai ipotizzando che la percentuale di incremento continua con tre numeri precedenti no c'è la blockchain e il multi omics e le batterie fanno come elettricità elettricità automobile ci siamo dimenticati esplosione demografica computer internet smartphone e la multi no e la blockchain ok passerò come boomer che non capirò questa cosa qua passerò come il boomer che perculava Bill Gates su internet quando c'era comunque la radio poi scusa scusa un secondo guardiamo l'asse delle X ci stiamo vedendo c'è 900 930 poi parte dal 40 al 70 perché non 30 60 perché c'è perché i 30 anni sono presi a casa perché i periodi di 30 anni sono presi a casa scusate un secondo chiedo scusa perché non c'è 30 60 60 90 90 2020 cioè potevi fare 30 60 dal 60 al 90 e dal 90 al 2020 erano 4 periodi perché questo perché qui c'è un buco di 10 anni e qua c'è un buco di 20 anni conta solo con lo stato di innovazione ah e quindi tra il 70 e il 90 non ci sono stata l'innovazione dei computer la attribuisce nel 40 70 in teoria il computer di massa è arrivato tra il 70 e il 90 ammetto che sono leggermente non capisco se ci crede veramente o deve fare i titoli clickbait ok vabbè ok e quindi pensa pensa i 30 anni dopo ancora ragazzi pensa cioè pensa i 30 anni la borsa pensa i 30 anni quanto crescerà la borsa dopo ancora ok che si traduce in un più 12% medio all'anno vi sembra poco? basta questo risultato per diventare milionari con 300 euro al mese qui siamo sul calcolatore dell'interesse composto che trovate sul sito investire.biz e se andiamo ad inserire come capitale iniziale zero dopodiché 300 euro di versamento mensili per una durata di 30 anni ad un tasso percentuale del 12% all'anno calcoliamo e vediamo che alla fine di questo periodo alla fine dei 30 anni avremmo versato 108 mila euro che grazie all'interesse composto sono però diventati un milione e 48 e ci comprerei un caffè a Zurigo se continua così sapete qual è la bella 12% l'anno ok questa previsione fantastica la segniamo ragazzi 12% l'anno segniamocelo segniamocelo le borse saliranno molto di più del 12% medio all'anno proprio perché di più stop cambia tutto il 12% l'anno è poco fermi tutti ci siamo sbagliati borse saliranno 8 mila euro sapete qual è la bella notizia che secondo me le borse saliranno molto di più del 12% medio all'anno proprio perché come detto prima mai nella storia abbiamo avuto così tante novità tecnologiche l'AI esiste da John McCarthy l'AI esiste dal 70 dal 60 blockchain non è iniziata la blockchain purtroppo non è nata nel 2020 la prima la prima implementazione seria bitcoin del 2009 la prima il paper del 2008 ma la prima implementazione del 2009 ma esistevano già versioni precedenti anche più vecchie le batterie se non sbaglio esistono da un bel po' più di tempo la robotica anche lì mi spiace dirtelo mi spiace dirtelo mi spiace dirtelo ma ho fatto esami di robotica industriale vent'anni prima di sta cifra qua ho fatto esami di robotica industriale vent'anni prima del 2020 era forse ancora il 99 e già era materiale di studio universitario robotica industriale robotica autonoma ho fatto competizione sta roba multinomic sequencing ci può stare non so bene quanto vabbè andiamo avanti oggi che tutte nello stesso momento pensate che se le bolse salissero solamente del più 15% medio all'anno i 300 euro al mese investiti di cui vi ho parlato prima diventerebbero oltre 2 milioni sempre partendo da zero sempre versando 300 euro al mese sempre avendo davanti a noi 30 anni di investimento se invece del 12% di interesse atteso andiamo ad inserire il 15% poi c'è anche tasse sul capital gain imposte di bollo vediamo che da 1 milione 48 mila euro il risultato diventa pari a 2 mila che comunque con i fondi attivi al 3,5% resterebbe la parte blu a voi resterebbe la parte blu a voi 76 mila euro vediamo infatti che i versamenti sono sempre 108 mila euro a far la differenza è il tasso di interesse composto che va ad incrementare notevolmente il nostro patrimonio se volete sapere come io investirò da qui ai prossimi anni lo spiego nel corso corso piano d'accumulo evoluto corso nel quale ma non faceva corsi di trading sono perso ma non faceva corsi di trading di scacciati anche il pack fa corsi sul pack le faccio vedere passo passo come investire quale banca o broker scegliere investire in dice azioni bene questa appena sarà tipo una sottoparte del modulo 2 su 5 del mio corso e ovviamente su quale strumento finanziario ti lascio in descrizione il link ok ok perfetto fatto eh eh slippery slope slippery slope come non ci fosse un domani ti lascia non ci fosse un domani lo spio ti lascia attra ti lascia è è ti lascia non ci fosse un domani Grazie a tutti.